ho riservato per riservare grandi solitamente i soldi che si conferme da chi è fatto in investimento. Sì, come dicevo prima, ho continuato ad investire e mi ha trovato anche impregno in giallo per i risultati, siccome non lo vedete sul campo, e poi se tutto si interessa i risultati dell'America, però, in settimana, in un'altra domanda, vorremmo un po' più finalizzare gli investimenti dell'Europa, dell'Apia, del Centro Sportivo di Collegio, e qui vanno in particolare il Sindaco, che è anche presente nel fatto un lavoro partioso, nel aiutare, nel sistema che si tratta anche delle proprie sport, appunto, quello di noi, a Piavier di Chiesa, che vogliamo parlare al giorno. Sarà valentina, così per questo, nel nuovo progetto, che si terrà molto almeno del centro di nuova propria, del Parma Casa, del Collegio. E questo, insomma, questo è una dimostrazione che vogliamo investire, e credere molto in questa società, in questa attività, però, lavorando di voi, abbiamo bisogno di voi, bisogno di voi che investiamo, che si attraverà in questo nuovo investimento. Simplicemente, questo è benvenito, lo sentiremo, e poi lo faccio nelle fortelle ente, con un centro di supporto, per il nostro reparto, libero e presto. Grazie, grazie a tutti.